Pronto? Pronto? Sì. Chat in? No. Ah, no? No, no. Neanche sabato mi sembrava... Eh, infatti. Va bene, va bene. Allora, è un possibile 4 a 0, insomma, ha un 2 a 2 in zona Cesarini. L'hai arrabbiato? No, no, no. C'è, allora, c'è. Un po', ovviamente, ovvi girano, no? Eh, un po' sì. Però questo è regola di calcio, no? Certo. Quando tu fai cappella, lui punisce, no? No, no, no. Io, l'ultima volta che ho visto cagata come quella che ha fatto chat in è stato, penso, partita Brocchi contro Scarci. Quando lui ha fatto passaggio indietro sembrava che avesse putrella a posto di piedi. Putrella. Cioè, sembrava che il pallone fosse vissica del porco. Eh, infatti. Certo che arrivare a gustarsi ormai, no? Il sapore della vittoria e vederla svanire così, penso ci sia rimasto veramente male o sbaglio? No, no, no. Cioè, sì. Cioè, sì. Cioè, no. È come, che ne so, quando tu... Eccolo. Inviti bella stroppa a cena a casa tua, no? Cioè, tu prepari tutto bello, perfetto, no? Cioè, cenetta romantica, candele accese, no? È tutto perfetto. È tutto perfetto. Prepari tutto. Sì. Metti musica mudante sul peccetto sotto fondo. Cioè, tu fai doccia. Sì, beh spero, sì. Sclusso di odorante fa sotto ascele. Certo. Mangi mentina per fiacche sa di mondizie. Cioè, tutto perfetto. Lei arriva, tu offri gingerino con bianco, apri sacchetto di paio d'oro. Cioè, tutto perfetto. Dai ociata a teia con minestrone con code che non si tacchi se non puoi saldo a Brusino. Esatto. È tutto perfetto. Cioè, serata procede bene, tu hai situazione in mano. Cioè, lei è proprio, ormai è calda come bracciola, no? Sì. Allora tu, con scusa, inviti in camera tua, no? In tua sala giochi Florida. È come? Per far vedere armadio di Ikea che ho montato tutto io da solo. Lei viene, tu fai sentare sul letto, no? Sì. Tu fai vedere armadio Kallax, laccato bianco e spiega difficoltà di montare tutto da solo. Con ciave a brugola, con istruzioni solo in svedese, no? Solo che non ti accorsi che stai diventando pesante come variale quando è il novantesimo minuto, no? E passa una mezz'oretta, cioè, e tu perdi tutto controllo, hai capito? Poi cerchi di recuperare, allora ti senti arente a lei di letto, no? Sì. Allora guardi dritta i noci, no? Sposti i capelli. Fai caressetta sul viso. Tu guardi negli occhi lei, lei guarda negli occhi te. Sì. Poi dici, ecco, adesso faccio gol all'incrocio dei pali. No. Tu pensi così, no? Sì. Solo che tu, non so perché, sul momento più bello, Sì. Eccolo. Ti viene brillante idea di dire, hai un tocco di Catalogna. Poi stussica i denti. Lei rompe il cantesimo, apre gli occhi, si alza improvviso da letto, guarda il roloio e dice, oh, io sale nove mesi, devo andare a fare pastone per le galline, sennò fanno uovi sbarlotti. Non sapevo questo trucco per le uova, però. E' un trucco, eh. Minta, minta. Vabbè. Minta. Allora, morale qual è? Ecco, qual è la morale? Dica. Mai dare Catalogna a Stroppa che a Gallina, prima di fare gol sotto il crocio di pali. Ok. Invece c'è Tim lì, che poco da fa. Vabbè. In collaborazione con Busetta e Botton, le ricette de Menona, buntà della tradizione veneta, Moto Taxi, i fattorini di Verona, Molin Auto, Massimo Zaglia Autospurghi.